I pescatori della costa nord dell'Adriatico, dalle marche a salire, hanno deciso di tornare in mare domenica 5 giugno per fare una prova di un paio di giorni, mentre quegli abruzzesi hanno optato al momento di continuare lo sciopero ad oltranza. Questo fino a quando non si avranno risposte da parte del governo sulla delicata questione del caro carburante, che sta mettendo in ginocchio un intero settore. Purtroppo le marinerie sono un po' disaccordo sull'areale Adriatico e quindi questa ancora di più penalizza le imprese di pesca e i lavoratori del mare, perché bisognava tenere una linea comune e quindi fare in modo che o si va a tutti in mare o si ferma tutti quanti a terra. Quindi poi andranno nei mercati ittici delle marche a fare rifornimento di pescato locale. Ma non è una cosa buona, non è una cosa giusta. Fare questo tipo di scelta, secondo me, è stata fatta una scelta senza cognizione di causa, perché o si continua lo sciopero o si torna tutti in mare, che l'abbiamo sempre detto e ripetuto. Oggi è un problema internazionale, quindi non è un problema italiano o europeo, ma è un problema internazionale il costo di gasolio. Allora bisogna prendere i provvedimenti. L'unico provvedimento che a nostro avviso è quello di cercare di fare in modo che entri in funzione la CISO, almeno per i dipendenti che hanno uno stipendio garantito a fine mese. Per le imprese si dovrà prevedere qualche forma di indennizzo per questi mesi inoperosi che stanno fermi. Ricordiamo che la marineria è ferma dallo scorso 23 maggio, una decisione quella presa dai pescatori della costa nord che non piace assolutamente a quegli abruzzesi. Per questo motivo in serata si svolgerà a Pescara un nuovo incontro tra gli operatori per fare il punto. Sì, sarà un incontro a Pescara, ma io penso che a questo punto ai pescaresi conviene che tornino anche loro in mare, e che anche la regione Abruzzo torni in mare, come hanno fatto i marchigiani.